Alle sue vittime si presentava come una gentile benefattrice in cerca di offerte da destinare ai poveri. Poi li narcotizzava e li rapinava. Camomilla o aranciata, alle benzo di azzepine e al risveglio erano spariti contanti e gioielli. Tiziana Morandi, 47enne della zona di bimercate, bella, bionda, con la passione per i social, i selfie e gli uomini. Non importava fossero anziani, maturi o giovani, conquistava la loro fiducia, li drogava e poi li spogliava di tutti i loro averi. Sei gli episodi ricostruiti dai carabinieri della stazione di Bellusco che l'hanno arrestata con l'accusa di rapina aggravata e lesioni. Per procurarsi il sedativo usava false prescrizioni mediche per aggirare le vittime in modi garbati e sorriso gentile. Alcuni li agganciava in reta, ad altri bussava semplicemente alla porta, come il caso che ha fatto scattare le indagini nell'agosto 2021, quando un 83enne di Roncello era stato trovato dal figlio in casa, privo di sensi. Ai militari aveva raccontato di aver condiviso una camomilla con una donna che si era presentata alla sua porta con la scusa di una raccolta di soldi per beneficenza, spariti la collana e la fede nuziale. Così un 67enne che aveva conosciuto la Morandi su Facebook. Invitato nell'abitazione di lei per bere qualcosa in compagnia, era caduto in uno stato di sonnolenza. Si era poi svegliato a casa sua senza ricordare come ci fosse arrivato. Dopo alcuni giorni si era visto addebitare sul proprio banco, ma un prelievo da 250 euro. Storie simili, stesso copione, il 51enne invitato al cinema, il 27enne della Valbadia arrivato in Lombardia per conoscerla, derubato di 400 euro, il 71enne di origini irpine che le aveva confidato di voler vendere la sua collezione di monete e pennini d'oro del valore di circa 80.000 euro. Lei gli aveva fatto credere di conoscere persone del settore per piazzare la merce e lo aveva invitato a casa. Risultato? Collezione sparita e una spesa di 4.000 euro sulla carta di credito per l'acquisto di monini in oro. In tutti i casi gli esami avevano evidenziato la presenza di benzo di azepina. Ora la donna è finita in carcere, nella sua abitazione militare hanno trovato parte della rifurtiva, 2.000 euro in contanti e i flaconi dissedativi.